Un'estate da incorniciare. Questo stando ad una primissima valutazione da parte di Confartigianato Pescara. Quella del 2022 è stata una stagione che ha visto la città tornare a livelli pre-covid a conferma di una forte vocazione turistica che dovrebbe aver convinto anche i più scettici. Una fase di ripresa importante che adesso andrà sostenuta e portata avanti con il massimo impegno. L'obiettivo posto dall'organizzazione a questo punto è la realizzazione di un tavolo permanente che lavora in maniera strutturale per l'intero anno, non solo sulla programmazione ma su tutto il contesto della promozione turistica della città di Pescara. Una struttura operativa di coordinamento alla quale prendano parte tutti gli attori che in qualche modo sono coinvolti nelle politiche turistiche del territorio, spiega il direttore Fabrizio Vianale. Si fa riferimento in primis all'amministrazione comunale che avrebbe il ruolo di guida senza dimenticare l'università, le scuole con indirizzo turistico, le istituzioni culturali e le associazioni, ma anche gli enti gestori dei servizi, i trasporti innanzitutto, Trenitalia, Tua, rappresentanti del porto turistico, della Saga e naturalmente associazioni dei commercianti, degli albergatori e categorie produttive. Dunque non solo spiaggia ma attenzione anche le opportunità offerte dai congressi e dalla convennistica, dal turismo ambientale e culturale con la valorizzazione anche dal punto di vista degli studi, dei tanti musei di cui la città si è arricchita nel corso degli anni e delle iniziative che propongono. A giorni, conferma Confartigianato, ci sarà un incontro in municipio per sviluppare il programma per le festività natalizie. Non siamo in anticipo, afferma il presidente di Confartigianato Pescara, Giancarlo Di Blasio. Il commercio ha bisogno di un forte sostegno in questo momento. Bisogna ragionare sia con eventi stagionali che con progetti strutturati durante più mesi dell'anno, in modo da restituire alla città quella dinamicità che era il suo marchio di fabbrica.